Qui vi presentiamo le 5 migliori coprise di LIAuto. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Wallove Coprise Dile Universale Auto Anteriori Super Soft Confortevo. Questa copertura anteriore per seggiolino per bambini è realizzata in tessuto puretano materiale di alta qualità, estremamente morbido e confortevole. Protegge completamente il sedile e ha un fondo in gomma sicuro e antiscivolo. Ogni coprise di per bambini comprende due fermagli in plastica, due ganci in acciaio, accessori duri e anche robusti, semplici da configurare. Una piccola tasca sul bordo anteriore è estremamente comoda per mantenere accessibili piccoli prodotti come chiavi di residenza o telefoni cellulari. Passando al numero 4. Max morbido coprise di lato. Costruite in pelle naturale e può di alta qualità, queste comode coperture per sedili sono apprezzate per il loro alto livello di traspirabilità, il che le rende inoltre perfette per lunghi viaggi nei mesi più caldi. Le due coperture in pole position sono piene di utili tasche sul retro, per consentire ai viaggiatori di tenere in giro piccoli oggetti come un portafoglio o un dispositivo intelligente. La sicurezza in gomma antiscivolo protegge dagli scivolamenti sul sedile del conducente. Sono pieni di due fermagli in plastica posizionati nella porta nella parte posteriore e ganci metallici sotto il sedile. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Elegance e uno cuscito su misura, set coprise di lato. Si tratta di una collezione di coperture per seggiolini auto progettate appositamente per Ford Fast 7 2008-2017 ed è composta da coperture abbinate, sapentemente sartoriali. L'aderenza è al 100% due pezzi per i sedili anteriori 1 più 1 con tasca porta oggetti sul retro e sedile posteriore diviso 2 più 1 posti. Sono realizzati in tessuto per tappezzeria nei componenti laterali della copertura del sedile e in velluto con l'aiut nella parte principale. I copri sedili non interferiscono con l'efficienza degli utensili e i bag. Almostat è top of our list at number 2. Ling Banner Classic Nero QP L Mesh Traspirante Universale Copri Sedili. La perfetta integrazione con gli interni dell'automobile è garantita dall'ampia varietà di tonalità prontamente disponibili. Il set contiene 11 articoli in pelle poerete, rispettosa dell'ambiente. Ogni coperchio del sedile è facile da pulire. Il sedile e anche lo schienale sono separati, per ottimizzare la vestibilità. La cerniera invisibile sul sedile posteriore lo rende molto facile da ubicazione e lo rimuove. E infine il numero 1 della nostra lista. Copri Sedili Allocchi Si tratta di una versione globale, ideale per il 92% delle versioni auto, dedicata alla personalità tanto apprezzata non solo dai giovani. Comprende tre pezzi decorati con eleganti ricami due per le pole position e anche uno unico per i sedili posteriori. Sono particolarmente immuni allo scolorimento della luce. Realizzate in poliestere, puliscono comodamente a 30 grandi. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.